A Pesaro mancano almeno 10 alberghi. Pensiero espresso dal sindaco Matteo Ricci fra i tanti temi emersi dalla conferenza di fine anno del primo cittadino. Quantità e qualità ricettiva che sono vecchi temi che diventano motivo di ulteriore riflessione alle porte di un 2023 che saranno ponte preparatorio al 2024 della Capitale della Cultura. Lo diciamo da anni. Vanno ringraziati tutti coloro che hanno investito e stanno investendo nelle strutture pesaresi anche in anni difficili perché abbiamo attraversato il covid e quindi già il fatto che siano riuscite a resistere è grande cosa. Però è evidente che nella strategia che abbiamo messo in campo che vedrà nella Capitale della Cultura un passaggio determinante il tema della quantità e della qualità delle strutture alberghiere è un elemento fondamentale. Mancano strutture, abbiamo bisogno di più strutture e di maggiore qualità e nel frattempo che cosa sta succedendo? Che tanti pesaresi stanno affittando il proprio appartamento ai turisti. Questo è positivo perché allarga l'offerta però sono appartamenti che vengono meno per le esigenze sociali. Tanti pesaresi stanno preferendo dare il proprio appartamento in affitto ai turisti per 4-5 mesi all'anno piuttosto che darlo alle famiglie per tutto l'anno. Quindi c'è un problema affitti, un problema a casa a Pesaro notevole per tante famiglie in difficoltà. Quindi l'esigenza di nuove strutture è fondamentale. È chiaro che non arriveranno in poco tempo ma speriamo che anche il faro che accendiamo su Pesaro con la Capitale della Cultura possa attrarre anche investitori da fuori.